I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato un vivaio di Inveruno e ne hanno arrestato il titolare per caporalato, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Milano che ha anche disposto la misura dell'obbligo di firma per una dipendente amministrativa. In particolare l'indagine ha consentito di scoprire un articolato sistema di sfruttamento dei lavoratori. Può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it nelle nostre edizioni regionali e sportive.